Ti sei risvegliato in una stanza misteriosa, sei solo, non hai nulla con te, anzi l'unica cosa che è con te è la forza di volontà di riuscire a sopravvivere all'interno di un mondo enorme e dove ogni besta che incontri vuole semplicemente divorarti. Riesci comunque a sopravvivere, ti crei il tuo avamposto, incontri degli artigiani che ti aiutano a creare le tue armi, le tue armature, ma tutto questo perché? Perché devi sopravvivere allo Shroud. Il mondo infatti è stato contaminato da una pestilenza che qualsiasi creatura vivente incontra viene controllata e tu devi prepararti per riuscire a sopravvivere a questa brutta situazione. Di cosa vi sto parlando? Ragazzi questa è la trama di Unshrouded, un survival RPG che potremmo giocare in early access su Steam dal 24 di gennaio. Come è composto Unshrouded? Allora sostanzialmente è un open world sviluppato in tecnologia voxel, quindi il mondo circostante sarà completamente modellabile a vostro piacimento. Avrete a disposizione un editor che vi darà modo appunto di creare in totale libertà il vostro avamposto. Insomma potete crearvi la vostra base come meglio credete e all'interno di questa base potrete inserire degli artigiani che appunto vi daranno modo di sviluppare le vostre armature e le vostre armi. È un RPG quindi avrete modo di sviluppare il vostro personaggio aumentando appunto le vostre skill, aumentando le vostre competenze in diverse armi o incantesimi. E tutto questo perché? Perché dallo Shrouded emergeranno, anzi la storia che si articolerà man mano che progrederete con il vostro personaggio e con l'esplorazione, vi porterà ad andare a perlustrare appunto queste Shrouded Zones, le zone che sono già state contaminate e all'interno delle quali troverete dei nemici agguerriti di varia natura vi daranno del filo da torcere e le sorti della battaglia dipenderanno sia dalle vostre capacità di giocatori sia da quanto sarete in grado di potenziare il vostro personaggio. Insomma ragazzi, un survival RPG con numerose caratteristiche, anche diverse tra di loro, però che si ammalgano bene all'interno del contesto in cui siete. In sostanza sarà un po' come giocare a Minecraft per quanto riguarda la manipolazione del mondo che vi circonda. Sarà un po' magari come giocare anche a Zelda Breath of the Wild per la capacità di movimento che avrete all'interno di questo ambiente. Poi oltretutto avrete anche modo di affrontare dei combattimenti in vero stile action game che diciamo che da quello che sembra dovrebbero essere molto emozionanti e per nulla far rimpiangere altri titoli di questo genere. Beh, ragazzi, il 24 di gennaio è vicino, io lo aspetto e onestamente non vedo l'ora di provarlo. Fatemi sapere la vostra nei commenti che sono molto curioso. Fatemi sapere la vostra nei commenti che sono stati, io lo aspetto e non vedo l'ora di provarlo.